buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di coach factor realizzato con la collaborazione di performance lab la puntata crazy web ha generato una serie di ascolti di commenti di critiche e incredibile abbiamo deciso di riproporla tra gli ascoltatori che hanno diciamo così dato dei feedback su quella punta da lì c'è anche giovanni guidetti allora le abbiamo invitato gli abbiamo chiesto di partecipare a questa edizione numero due di crazy web quindi giovanni benvenuto grazie a voi che mi avete chiamato e intanto vi faccio i complimenti per tutto quello che avete fatto fino adesso perché vi ascolto sempre e ogni tanto mi trovate in disaccordo spesso e volentieri mi trovate in grande accordo e comunque mi fate pensare durante le mie mattine a passeggio mentre faccio sport quindi vi ringrazio per quello che fate penso che tutti tutti noi allenatori vi dobbiamo ringraziare perché siete l'unico chiamamolo sito italiano che comunque produce un sacco di materiale un sacco di idee un sacco di spunti c'è qualcosa anche in america che seguo però mi fate più ridere voi quindi mi diverto di più mi diverto di più con voi françois crazy web come dicevo ha generato un sacco di polemiche tu sei stato e accusato di aver definito nulla che guarda nulla esercizi che hanno costruito e successi e portato gloria all'italia per cui oggi è occasione o di discolparti o di peggiorare la situazione decidi tu di solito dice mia moglie che ogni volta che parlo peggioro la situazione credo che difficilmente andremo a star meglio però insomma il problema grosso è l'unica cosa seria che dirò stasera si chiama bias di conferma e purtroppo tutti noi cerchiamo in tutto quello che facciamo qualcosa che conferma che la nostra teoria è quella corretta e quindi purtroppo anche quando magari ci viene fatto notare che certi lavori certi esercizi che facciamo magari non sono i migliori o comunque potrebbero essere cambiati migliorati noi comunque nella nostra testa andiamo a cercare tutte quelle prove che dimostrano come fino a quel giorno e quell'esercizio abbia prodotto buoni risultati o buoni giocatori al punto che no e si si sente spesso dire soprattutto mi sono sentito dire sul mio instagram dopo che ho commentato il nulla che guarda nulla che con questo esercizio ho vinto campionati con questo esercizio i giocatori sono andati a giocare in serie a eccetera eccetera e quindi purtroppo questo è una forma è un bias che abbiamo tutti e non è una colpa semplicemente dobbiamo tutti noi fare uno sforzo per riuscire a uscire no da questo paradigma e cercare in qualche modo di capire e forse uno dei motivi per cui abbiamo parlato qua stasera giovanni che è stato il primo ad ascoltare qualche critica ed è stato il primo a ragionare su queste critiche quindi se lo fa lui penso che lo possiamo fare tutti proprio perché l'obiettivo di coach factor è proprio quello di condividere opinioni e soprattutto dare stimoli e che è quello che insomma stiamo cercando di fare più o meno bene nel negli ultimi sei anni ok visto che tra italia francia e turchia ci sono anche due ore di fuso orario e direi di non indugiare oltre iniziamo con una bella carrellata di video che arrivano dal web e li commentiamo insieme allora questo è un esercizio che teoricamente dovrebbe essere destinato all'allenamento del muro e anche se non capisco bene se l'utilizzo delle due palline è per l'invadenza anche perché a volte vengono lanciate a volte vengono lanciate a volte vengono fatte cadere e niente vi chiedo un vostro parere posso non commentare posso non commentare solo perché è giusto fare un preambolo che credo insomma che sia doveroso prima di tutto che io non faccio giovanile quindi su certe cose faccio anche fatica insomma avere un'opinione l'altro aspetto molto importante è che tutti noi quando abbiamo avuto la necessità di lavorare magari con gruppi di giovani molto numerosi eccetera e comunque abbiamo sempre pensato magari a inventarci qualche qualche idea qualche esercizio per rendere tutto più allegro più divertente e quindi magari delle volte tutti noi abbiamo fatto anche qualche esercizio magari nella fase di riscaldamento per insomma per variare ecco detto ciò credo che sicuramente l'obiettivo di questo esercizio sia trasmettere ai nostri giocatori di invadere con entrambe le mani e probabilmente ecco ci sono una serie di tra virgolette errori in questo esercizio che forse non ottengono proprio l'obiettivo che si era dato il loro allenatore non potevo non posso rispondere meglio di te però diciamo che non mi fa impattire quell'esercizio se non so se è un modo per fare saltare giusto per fare scaldare il salto allora va bene e per il resto non 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 vedo proprio nessun tipo di di attinenza neanche al muro proprio neanche poi vedo che c'hanno anche la rete piuttosto bassa l'hanno abbassata quindi sicuramente vorrebbero fare un'invasione che poi non è questa l'invasione che dice non lo so non ci vedo tante cose se non un po di salti che non fa sempre bene anche di saltare non ha mai mandato nessuno ecco allora giovanni ti chiedo un parere su questa altra clip praticamente un centrale che deve fare quattro attacchi dopo con un muro in mezzo quindi lo rivediamo c'è prima una sette un muro dal plinto un bel primo tempo e poi una fast ok io io sto che questo non è tutto che a voi non piacciono neanche un po e allora ti dirò le serie di tre attacchi ci stanno anche secondo me il muro fatto il muro fatto no dopo questo attacco che va a muare in banda non ha proprio senso perché non fa un passo incrociato non c'è un po di lettura non fa un movimento del centrale cioè non mi piace l'idea dell'idea della dell'attacco dei tre attacchi io ho lei una volta tre attacchi ripetuti no e poi poi se guardi anche il gioco è stata un'azione bellissima di conigliano la fare attaccato tre o quattro volte di fila no quindi c'è questo attacchi ti difendono torna indietro attacchi ti difendono e ci sta anche cambiare la palla quindi tre attacchi a me non dispiace da non fare sempre quel muro messo lì così no proprio come come chi mette il ketchup sulla pasta che ha messo anche quello capito però i tre attacchi io lo faccio e so che voi non piace però no 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 mi piace l'idea dei tre attacchi consecutivi ogni tanto a me piace molto l'idea dei tre attacchi e l'idea potrebbe essere interessante per esempio farlo e nel 6 contro 6 i primi due attacchi lasciamo cadere la palla e il terzo attacco iniziamo a giocare è un modo per poi per rendere un pochino più eh dinamico e realistico ci sono anche delle volte dove non so abbiamo la possibilità la mattina o prima dell'allenamento di lavorare solamente con un centrale un paleggiatore per fissare alcuni punti quindi questi lavori possono essere molto interessanti perché si dedica tempo a un giocatore si sottolineano alcuni dettagli e l'ho visto fare anche da eh dal polis settimana scorsa l'hanno postato su instagram e quindi ci sono allenatori che lo fanno credo che abbia un senso l'importante è sapere semplicemente che è una una piccola cosa e nella quale noi allenatori possiamo dedicare tempo a un giocatore quindi importante come feedback per il giocatore detto ciò non pensiamo di aver allenato un eh long rally con tre attacchi di un centrale come quello di cui parlava prima Giovanni di Conegliano molto bene vediamo la prossima clip qua scendiamo un po di età eh io qua per quel poco che ne capisca di giovanile sinceramente mi sembra un iper analitico soprattutto guardate questa bimba povera come tiene la palla in mano poi questa schiacciata a due mani non lo so eh forse questa è una di quelle situazioni in cui il gioco è più utile del super analitico ma guarda sono quasi nel senso che eh della follia di questo esercizio soprattutto il genitore di quella bambina che prende la palla in faccia alla fine mi dispiace un sacco eh l'unica cosa credo che uno per trasmettere un'idea i primi cinque minuti no invece che fare stretching lavori alla parete qui c'è una sorta di dinamismo l'obiettivo è chiaro no far tenere lontane le braccia dal corpo che è l'obiettivo principale della ricezione l'altro sarebbe tenere la palla alta davanti alla fronte anche se questa bambina ce l'ha dietro la testa non capisco perché devono uccidere le compagnie di squadra però in questa follia se dura due minuti ed è il riscaldamento preallenamento potrebbe avere ecco un senso solo della variabilità ecco detto ciò veramente mi incuriosisce come la gente possa inventarsi certe cose comunque la palla vuole guarda che bella perché ce ne vedi di piccolo perché è uno sport talmente secondo me complicato perché davvero è che la palla vuole non è facile è talmente complicato che allora uno si sbizzarrisce perché uno pensa tanto è così complicato complichiamolo ancora un po' perché no no secondo me il concetto è questo non può essere tanto più complicato io questo non ci vedo proprio niente che c'è poi questo camminare camminare perché non è che fai il bagger camminando cinque metri o palleggi camminando cinque metri non lo so dovrei chiedere chiedere volentieri a bosetti cosa ne pensa ma possiamo chiamare lui è che più esperto di me ne giovanile la parentesi era in turchia perché c'era la bandiera turca ho visto ho visto per quello preferisco non commentare politicamente meglio di no no meglio di no esatto ecco su questo io e françois invece eravamo un po' in disaccordo nel senso che questo esercizio a me non lo faccio più però io ammesso che ammetto che l'ho fatto in passato per dare questa idea di spostamento tenendo il baricentro basso a françois mi pare che non piaccia tanto non lo so forse ha senso se vado a correggere un dettaglio della tecnica ha senso solo come warm up allora a me dipende se ne fanno 40 di fila per me è un buon lavoro cardio nel senso che può essere un buon cardio e non mi piace perché comunque questo spostamento qui cioè quando è che si fanno tutti questi passi no di solito almeno io lavoro su un passo e mezzo laterale che è il massimo che fai quando scendi da rete veloce puoi fare quel passo e mezzo quando sei in sei vai sei cinque vai sei uno c'hai in mezzo c'hai un passo laterale praticamente da fare non tanto di più e boh a me non piace sinceramente non è una cosa che io farei a parte un po' forse controllo ecco il controllo della palla deve essere preciso perché la ragazza è lì che poi ci sono tanti altri molli per fare sì a me non a me non piace assolutamente io credo che qui apriamo una parentesi che credo che poi ritornerà in altri esercizi perché però è l'aspetto più importante forse della della serata che è quello del perché facciamo le cose cioè nel senso che quale stimolo della squadra avversaria ci pone a fare certe cose perché in questo caso l'atleta rimane basso perché è costretto da un attrezzo invece noi dobbiamo trasmettere ai nostri giocatori di fare lo spostamento non certo questo ma di un passo accostato per esempio restando basso in una situazione completamente diversa perché sempre il problema è quando i nostri giocatori debbono fare una cosa all'interno di un sistema di gioco perché in questo caso sono costretti così come quando sono costretti a fare più azioni consecutive e lì il focus viene dato dall'allenatore non dall'azione avversaria quindi in questo caso purtroppo manca quell'aspetto lì Giovanni ha colto il discorso dell'attacco ed è vero perché alla fine quelli che stanno facendo il lavoro più interessante sono i due ragazzi che attaccano e lo spostamento è veramente inutile almeno che giustamente non lo utilizziamo per fare un lavoro o di cardio di potenziamento degli arti inferiori piuttosto che farlo alla parete. Tu perché lo facevi Ciro? Qual era il tuo obiettivo di questo? Io lo facevo in realtà non col cono con la con la borraccia con la bottiglia d'acqua perché non volevo che la giocatrice nello spostamento si alzasse e poi si riabbassasse immaginiamo il giocatore di posto 6 che in una situazione di lettura decide di andare a destra o sinistra a prendere una parallela non volevo questa onda però poi mi sono accorto che non c'è transfer perché alla fine tu stai bassa perché devi raccogliere la bottiglia ma se hai il vizio di alzarti prendi la bottiglia la porti su e poi la riporti giù quindi alla fine non ottenevo l'obiettivo. No ma soprattutto un sacco di studi che provengono dal GOF hanno dimostrato come nel momento che si toglie la costrizione si perde il movimento questo è forse è quello che ho provato a spiegare prima molto male cioè magari loro lo fanno benissimo con la bottiglia tolta la bottiglia non lo fanno più quindi noi allenatori dobbiamo cercare di farglielo fare in una situazione in cui non c'è la bottiglia. Invece una cosa che io proprio trovo sbagliata è l'idea di restituire la difesa a chi ha attaccato cioè se nella testa del mio difensore metto dentro che la palla difesa deve tornare esattamente da dove è arrivata significa che in partita quella difesa sarà una slash. Quella è una cosa che io ho abolito da qualsiasi esercizio la palla difesa non torna mai all'attaccante mai neanche nella palla coppia. Io in realtà l'ho superato eh è un trauma che ho superato nel senso che ci ho ragionato anch'io e la tua obiezione è correttissima però in realtà visto che ormai penso che questo il peper insomma il lavoro a coppie sia veramente la cosa più inutile che esiste quindi alla fine l'ho ridotto a tre minuti di lavoro massimo a quel punto ho anche abbandonato questa idea no nel senso che è vero però è talmente una roba inutile fatela in fretta fatela così se la palla torna là di sicuramente non condizionerà il lavoro futuro quindi ho fatto anch'io quel quel ragionamento poi ho fatto uno step ulteriore negli ultimi cinque anni e penso che sia veramente corretta l'obiezione che hai fatto ma allo stesso modo talmente inutile quell'esercizio che dedichiamoli poca attenzione poco tutto facciamolo e poi torniamo a fare altro. Vediamo il prossimo allora questo qua è molto divertente io questo l'ho fatto con un under 16 non veniva con questa frequenza qua loro sono molto brave perché in anellano cinque sei attacchi consecutivi da una grandissima soddisfazione però è talmente complicato che il rapporto vantaggi benefici purtroppo non è vantaggioso. Questo ti dirò se hai sei giocatrici quel giorno lì che ne hai solo sei o sono malato o fai un lavoro a due gruppi comunque ha una sua attinenza con la realtà nel senso che può capitare diverse volte tu tiri forte e la palla ti torna di qua e quindi è una cosa che si può ripetere. Non è una cosa che probabilmente domani vada a fare però sinceramente non è neanche così è abbastanza vicino al gioco questi stanno giocando a pallavolo alla fine stanno giocando. Devo risolvere la situazione perché una palla ribalta al centro una palla ribalta a destra una ribalta più forte quindi devo leggere dove la palla e comunque stanno giocando a pallavolo e quindi per me non è non è male questo questo io fra quelli che vedi fino adesso è l'unico che mi piace. Sì ci sono un paio di episodi vedi dove il libero vuol fare l'appoggio ma poi devono trovare l'accordo con i due esterni che sono proprio le situazioni che che dobbiamo andare a lavorare sono molto e la cosa che mi è piaciuta molto che ha detto Ciro è molto divertente quindi delle volte magari come hai detto te abbiamo pochi giocatori vogliamo fare un lavoro tecnico in questo caso l'hanno reso divertente e molto vicino alla realtà per quello che potevano proporre e quindi direi che questo è stato ampiamente promosso. andiamo con il prossimo warm up a coppie stile circense questo so che a frasua non piace per niente anche qui alleniamo la coordinazione alleniamo stiamo alzando solo la temperatura corporea è un vincente vita line ok capito su una cosa così ci fa 45 minuti di riscaldamento ci mette in mezzo un gioco a punti e ci fa tutto il pre allenamento prima del 6 e 6 perché è specializzato è una persona è un attore che è venuta l'ho chiamato a fare un allenamento una volta al wakibank perché avevo voglia che insegnasse no ero stanco di vedere i bambini del wakibank fare le file e toccare un pallone ogni morte di papa no aveva mille di questi trecissietti dove con due tre pallone addirittura con il pallone un pallone di quelli no che che soffi no un pallone lì come si chiama i palloni che soffi palloncino palloncino con dei palloncini con altre cose con i cerchi cioè questo secondo me comunque se lo faccio fare a gabi alla bianca e alla franti no probabilmente dopo due minuti si annoieranno o comunque che cosa mi serve non penso che questo mi faccia vincere o perdere non le farà neanche giocare bene o meglio meglio o peggio però per una scuola giovanile come questo è cinque minuti per comunque destreggiarsi con la palla che secondo me non è da buttare via non lo farei mai io non perderei tempo io però vita line mi potrebbe spiegare perché lui lo ha fatto ha vinto mondiali eccetera eccetera con questi riscaldamenti però per il livello giovanile mi piace come come idea di diventare amici della palla finalmente siamo arrivati al famoso bias di conferma no siamo riusciti a collegare un esercizio inutile alla vittoria di ainen lui ha vinto sicuramente non perché fai quei 45 minuti inutili tutti i giorni lo fa nella signores io abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo lui ci ha spiegato come lavora sicuramente massimo rispetto e questi lavori veramente non hanno nessuna nessuna attinenza bravissimo giovanni a parlare di giovanile tutto quello che si fa nel giornalire anche se si è dimostrato che la coordinazione generale non ha nulla a che fare con la coordinazione specifica però comunque farsi amica la palla comunque noi abbiamo a che fare magari con bambini che proprio fanno fatica nella mobilità generale e quindi tutto quello che riguarda destrezza abilità va benissimo in una fase di riscaldamento per poi dopo provare a spostarci verso la palla volo nella signores se un giorno vogliamo fare una roba divertente facciamola pure due minuti e magari scoppia anche una challenge che al giorno d'oggi va tanto di moda chiuso lì poi per il resto dell'anno facciamo altro sono quasi sempre d'accordo con te oggi non è un buon segno non mi disturba non mi disturba tanto l'attacco sotto rete perché pensavo non mi disturba tanto l'outfit dell'allenatore è una macchina da guerra a me non disturba l'attacco sotto rete perché in certe situazioni va benissimo attaccare sotto rete per dare un riferimento non mi disturba neanche l'outfit dell'allenatore a me quello che mi disturba è il fatto che una giocatrice lavori e altre dieci 11 12 siano concentratissime per fare sta roba e i giapponesi in questo tipo di esercizi a catena sono i numeri uno io ho visto esercizi fatti così però con l'attacco vero sopra la rete coreografici non mi espongo sull'utilità o meno non mi esprimo ma ho delle perplessità che vanno oltre l'outfit allora io faccio un mia colpa io non sull'outfit perché il beretto non ho mai usato ancora comunque parte quello non mi ricordo che anno era però sono andato in giappone ho visto una marea di questi qua capito poi c'entra i giapponesi centrali con il braccio più veloce del mondo da sempre sono arrivato a casa e cominciato a farli non così facevo capito dal dal plinto dal plinto e cominciato con a volte alla mattina ovviamente solo la mattina quindi con il gruppo dei tre quattro centrali soprattutto con con ragazze con un braccio particolarmente lento l'ho fatto servito non servito non lo so so che il feedback che la ragazza mi dava era positivissimo no perché il periodo che sentiva lenta di braccio dai giovanni facciamo un po di serie di 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 lavoro giapponese va bene se i sentimenti serve lo facciamo e non penso che a me comunque sia no questo portare indietro il gomito veloce e lavorare veloce male non fa che poi quanto sia utile non lo so male non fa se lo fai proprio a me parliamo di una serie da dieci palloni quattro cinque volte una volta in tre mesi ecco questo qua più o meno però l'ho fatto non così sopra la rete però l'ho fatto due cose due cose che mi vengono in mente la prima è che adesso mi ammazza l'abbiamo fatto tutti pensando che è stato dimostrato che non non c'è una correlazione diretta tra la velocità di esecuzione di quella dell'esercizio d'attacco sopra il plinto all'esercizio d'attacco in situazione reale anche se io mi sono sempre posto questa domanda esiste una una pista dei 100 metri piani leggermente in discesa dove i campioni del mondo si allenano perché arriva un limite oltre il nostro cervello il problema di trasmissione neuronale tra il cervello e la fibra muscolare andando in discesa e loro riescono ad andare oltre il loro limite e quindi spingono il cervello a trasmettere l'informazione in maniera più rapida quindi esiste dal punto di vista scientifico una giustificazione a questo lavoro nel senso che si potrebbe pensare che se il braccio comunque va più veloce del normale probabilmente si creano connessioni o comunque il nostro cervello potrebbe trasmettere il segnale in maniera più più veloce l'altro aspetto l'ha detto giovanni benissimo ed è molto interessante perché il giocatore pensa che il suo braccio va più veloce e questo aspetto è ancora misterioso non si sa perché ma la performance migliora e questo succede in tantissime situazioni quindi se chiamiamola self confidence aiuta per poi dopo performare meglio perché no però l'obiezione che faccio io è che un conto è farlo dal plinto sopra la rete e un conto è farlo sotto rete con la palla colpita sotto il mento io non colpirò mai la palla sotto il mento meno che non sia paolo e però ti faccio un'obiezione che non l'obiezione che mi è stata fatta corretta nel senso che delle volte a livello giovanile soprattutto in certe palestre con un numero di palloni un numero di assistenti limitato eccetera eccetera delle volte scegliamo la strada più semplice per proporre un esercizio delle volte quello che può fare giovanni posso fare i complinti assistenti che lanciano che gestiscono diventa in questo modo nonostante fossero occupate 10 10 ragazze poteva essere fatto solamente da uno che lanciava la palla sotto rete magari per la struttura per l'attrezzatura che aveva questa palestra poteva essere l'unica soluzione però giustamente più lo avviciniamo la situazione reale meglio è vediamo un video sul palleggio qua mi faceva ridere vabbè come ripeto prima se facciamo una challenge va bene tutto per fare il video promozionale del club e dal punto di vista tecnico qua io mi permetto di dire che veramente non c'è nulla e non vedo un motivo valido per farlo mi assorcia qualcuno potrebbe pensare un allenatore potrebbe pensare con un esercizio solo alleno sei giocatrici a palleggiare dietro non lo so in realtà come come si vede no da da stanno allenando l'errore no perché il gesto tecnico è assolutamente sbagliato per per palleggiare dietro quindi per assurdo stiamo allenando sei persone a fare la cosa sbagliata e l'unica giustificazione che mi posso dare no può succedere che tu arrivi c'è l'under 16 che si sta allenando tu c'hai l'under 14 per guadagnare 20 minuti le metti sedute in un angolo e fanno qualcosa e comunque hanno toccato la palla e detto ciò è il modo peggiore di toccarla perché insomma stiamo allenando una roba che non si capisce cos'è andiamo avanti esercizio la difesa questo l'abbiamo fatto tutti probabilmente lo facciamo ancora e io dei palazzetti di serie a 1 a 2 lo vedo praticamente tutte le volte c'è sempre l'assistente che prende il libero e gli fa una difesa e un pallonetto una difesa una palla spostata questo adesso ditemi voi se vi piace o non vi piace ma guai al primo che dice che questo non lo fa nessuno perché questo è uno degli esercizi più frequenti fatti col libero e questo lo fanno tutti durante l'attacco libero dovranno scusa l'attacco libero no perché adesso il libro quasi sempre da quasi sempre da dalla palla all'altatore però sì l'altro libro di solito lavora con l'anatore con l'anatore fa una cosa del genere che vabbè ok beh siccome in quel contesto lì no in quel contesto dove ti riscatti per la partita dopo dovrai fare dovrai difendere dovrai correre ok quindi in quel contesto ci sta nel senso se qualcosa fai fare sono al secondo libero lo tieni in panchina seduto le fa ricogliere i paloni almeno sta sta facendo della difesa si sta muovendo in maniera che non ci piace perché non c'è lettura non c'è non c'è non c'è niente di vicino al gioco se non se no un pochino gesto tecnico il toccare la palla e il muoversi in maniera veloce quindi in condizione di pre partita dove i liberi hanno quei cinque sei metri neanche tre quattro metri dove possono scaldarsi è l'unica cosa che possono fare secondo me è una migliore versione della palla coppia ecco sì una cosa banale no se invece che fare attacco e palonetto attacco e palonetto facesse rando già avrebbe migliorato esatto esatto l'esercizio con una roba banale sono d'accordo con gioche se sei fatto in un certo tipo di contesto dove lo spazio occupato da altre situazioni ha un suo perché l'abbiamo fatto tutti dove nasce il problema che quando si fa pensando che stiamo allenando il libero in quel momento allora commettiamo l'errore se lo facciamo per scaldare il libero il secondo libero per comunque eh no e preparare i giocatori prima di un allenamento prima di una partita perché comunque abbiamo diciamo delle situazioni insomma difficili da gestire dal punto di vista dello spazio bene però ecco era sufficiente che c'è un pallonetto una palla forte una palla forte un pallonetto e già si era creato qualcosa in più e io ho commentato un esercizio del genere su instagram perché purtroppo nonostante mi combatto questo mio vizio ogni tanto mi scappa di farlo e sono stato attaccato violentissimo da un allenatore che mi ha detto che lui in serie a maschile lo fa e vince sempre e quindi gli ho detto beh se quella è la motivazione risparmierà un sacco di soldi sul mercato perché può prendere chiunque e fare quello e non c'entra tutto il resto insomma chiuso alla polenca forse aveva il dente avvelenato perché non l'abbiamo mai invitato a coach factor quello può essere vediamo l'ultimo video non potevamo non mettere il muro bulgaro io con sé con sé avevamo pronto a fare una cosa simile però c'era c'era anche non so se te l'ho mandato pranzo te l'ho mandato no che c'era praticamente c'è il allenatore dava la palla da dietro la rete la rete offuscata no in questa maniera qua e a seconda del colore se c'è davamo la palla blu il giocatore dove andare a sinistra avevamo la palla la palla verde quindi era lì guardava la palla secondo vedeva la palla e via quindi non stiamo allenando il muro siccome ma stiamo allenando la reattività la collezione no gli occhi stiamo allenando la velocità di reazione sai che adesso vanno di moda tutte quelle luci che si mettono che devono toccare eccetera è un lavoro di questo tipo non è un lavoro tecnico secondo me è un lavoro di di rapidità occhio occhio manuale poi non sono bravo a parlare più in italiano ma neanche in inglese sarei capace di spiegare questa cosa qua però è più un lavoro non stiamo allenando il muro ma stiamo allenando siccome la reattività e e l'occhio del giocatore due considerazioni immagino che il fatto che la rete sia bassa eccetera eccetera probabilmente la ragazza non doveva saltare quella mattina tutta una serie di motivazioni che hanno spinto loro a fare questa cosa dal mio punto di vista entrando nel mondo spinto dell'ecologico sappiamo che condizionare l'ambiente condiziona la percezione e allena l'istinto che è la cosa più importante da allenare abbiamo finito le clip prese dal web allora prima di passare alle clip che ci ha proposto giovanni adesso facciamo un po io e giovanni le pulci a a francois e vediamo questo esercizio che lui ha ha proposto alle sue ragazze aspetta che è molto complesso quindi chiaramente se non lo spiego non si capisce cosa sta succedendo allora l'idea è questa facciamo due cambi palla squadra a squadra b le magliette dei giocatori sono legate al colore del pallone quindi se l'avversario gioca con la palla blu possono fare cambio palla solo i due giocatori arancioni se l'avversario batte con la palla verde possono fare cambio palla solo i due giocatori gialli e quello vale solo per la prima palla e l'idea di questa di questa situazione è per creare un sovraccarico a muro quindi noi sapendo che l'avversario giocherà su una parte della rete in questo modo siamo costretti cioè spingo i miei giocatori a gestire questa informazione oltretutto c'è l'obbligo di cambiare palla a ogni cambio palla e quindi una volta giocheremo con un certo tipo di cambio palla una volta con l'altro il palleggiatore è libero di creare comunque diverse combinazioni quindi non è detto che sempre venga giocata fast and pipe o primo tempo è ora non lo so ci possono creare situazioni diverse quindi le due squadre giocheranno palla blu palla blu palla verde palla verde in modo tale da giocare sui due cambio palla l'altro aspetto interessante invece ci sono due allenatori e uno dalla parte di un campo uno dall'altro con due palle in mano una blu una verde una blu una verde che lanceranno ma non si sa né che allenatore lancerà la palla né che colore di palla lancerà se lancerà la palla blu la la squadra deve ha solamente un tocco a disposizione quindi deve fare un tocco aggressivo e costruisce una free ball per l'avversario se lancerà la palla verde ha tre tocchi con i quali costruire una situazione di di rigiocata su palla facile e in questo modo c'è la randomizzazione perché non sai né quale allenatore lancerà la palla né che tipo di palla lancerà e quindi la squadra non può essere pronta né a gestire una free ball né a gestire una free ball avversaria in questo modo si cerca di reagire in base a quello che succede detto tutto ciò lo possiamo guardare un attimo quindi carli batte con una palla che non so di quale colore sia allora immagino che i giocatori arancioni possano intervenire sulla prima palla di cambio palla e dopo diventa un long rally normale a tutti gli effetti dove tutti i giocatori sono coinvolti nella nella fase di di long rally ma l'obiettivo è non fare punto no siamo solo scarsi d'attacco ah ok è arrivata è arrivata è arrivata geli batte anche lei credo con la stessa palla quindi i giocatori arancioni devono fare punto ecco questo l'ho messo per questo in questo caso è il palleggiatore sapendo chi andava attaccare ha sovraccaricato il muro sulla pipe questo caso è stato lanciato una palla che è diventato i tre tocchi ma si può poteva essere l'altro allenatore che lanciava una palla che diventava un tocco solo quindi è una situazione di eh sei contro sei dove c'è un aspetto legato al cambio palla e un aspetto legato alla rigiocata creando almeno quattro cinque variabili random in questo caso per esempio erano tre tocchi e quindi hanno utilizzato una rigiocata di eh primo tempo ma io la vedo lo vedo un po' complicato proprio per il numero di variabili cioè mi devo devo tenere a mente chi batte su chi riceve eh chi l'allenatore se la palla è gialla blu o giallo verde eh se devo forzare o se devo forse perché sono abituato con giocatrici meno abituate a a gestire tante informazioni però per il per il livello a cui sono detto io è molto complicato un po' da ragioniere io la vedo un po' come ciri faccio complimenti del tuo ragazzo è davvero perché ricordarsi tutto non è facile quindi come è non è la prima volta che fanno un esercizio di questo tipo perché secondo me ci vuole una squadra mentalmente pronta per per come dice ciro tutte queste tipi di variabili l'idea è buonissima secondo me perché comunque l'idea è buona specialmente per l'alzatore perché deve perché deve ragionare molto e poi capire cosa può fare cosa non può fare visto che siamo qui a tirare fuori le pulci a tutti no mi piacerebbe di più no che una lettura del gioco che non è in base al colore ma in base a quello che vedo no quindi non è che vorrei che i miei giocatori capissero quando raddoppiare dove andare a muro dove anticipare in base a quello che succede no in base a uno che è per terra uno che perde una palla libera uno che non può fare una buona rincorsa no l'altatore che si muove in un certo modo e quindi non può alzare in un altro posto quello è più in gioco che visto che c'è il colore blu allora quei due là non attaccano quindi questo se vogliamo mettere i punti sulle i è una cosa che non è proprio legata al gioco no però è chiaro che allo stesso tempo tu abitui i giocatori a pensare non è non è mica un sito facile io non vedo se lo propongo domani alle mie io penso che invadono tutte a casa mi mandino a cagare dopo dopo quello proposto secondo me le facce vedo già le mani la prima è che lì parte gabi che si divertirebbe un sacco perché la conosco con queste cose difficili perché lei a lei piacciono le cose molto molto difficili ma tante altre altre mi mandare due aspetti perché forse mi sono spiegato non benissimo e esiste una correlazione tra il colore della palla e la prima palla di cambio palla quindi nel momento che la mia squadra esegue cambio palla dopo è 6 contro 6 libero e devo leggere come diceva giustamente giovanni quello che sono perché c'è questa idea molte volte quando prepariamo una partita non so diciamo in fase 5 noi sovraccarichiamo primo tempo e palla in 47 palla dietro fast and pipe esempio fast and pipe a metà rete allora noi lo diciamo lo diciamo ma siamo sicuri che i nostri giocatori tecnicamente poi lo facciano che il centrale faccia lo spazio il passo dalla parte giusta che il posto 2 faccio in questo modo avendo condizionato e parte della rete loro sono spinti a fare quello e facendolo con due colori tu o nello stesso esercizio sta allenando due cose questo esercizio si sviluppava su tre set nei quali io cambiavo sempre i due giocatori con la stessa maglia quindi per esempio poteva essere quattro e due quindi tutti gli esterni senza pensare al centrale poteva essere primo tempo e over quindi tutto si svolgeva al centro della rete però con tempi diversi poteva essere fast and pipe metà rete poteva essere set e back quindi in questo modo con due colori allenavamo questo aspetto del muro l'altro aspetto che vi sorprenderà che invece i giocatori immediatamente capiranno le regole perché sono molto semplici ed è non è vero non sono molto semplici ma esattamente allena quell'aspetto così complicato della pallavolo quindi mi sta arrivando una cosa e io in quel momento devo ragionare su cento cose quindi con questa palla ci devo fare un primo tocco mi devo preparare a muro devo prendere le rincorse devo gestire invece una palla che arriverà nel mio campo chi la prende il 6 il 5 e quindi sono tante informazioni racchiuse in una free ball e quindi vedrete come vi stupiranno i vostri giocatori a capirlo dopo due palle che lanciate e comunque all'interno di un 6 contro 6 avere dei risultati tattici mi hai convinto dopo la coppa lo provo volevo portare che non ho portato che era il seguito di questo che è carino da fare ho dato tre colori diversi per squadra ho lasciato a loro la libertà di scegliere ok così da ogni squadra a quattro attaccanti banalmente no e quindi tre maglie una maglia se tu facevi punto valeva un punto un altro giocatore ogni volta che faceva punto valeva due punti un altro giocatore valeva tre punti ok interessante dal quarto che rimaneva senza maglia per evitare che adesso la non maglia al giocatore che loro ripetono più scarso e quindi diventava anche difficile a gestire dal punto di vista interpersonale il quarto quello senza maglia sarebbe stato il giocatore che avrebbe giocato una free ball obbligata e dove lui andava attaccare quindi si creavano prima dell'esercizio dei time out dove tra di loro si distribuivano le maglie e se le distribuivano in base alla rotazione quindi per esempio se era una p3 davano la maglia più importante di solito da tre punti al mio centrale da fast che solitamente fa punto davano la seconda maglia o alla pipe o in quattro in base a chi c'era e in questo modo giocavano in questo modo già loro si responsabilizzano il secondo aspetto come diceva prima giovanni condiziona il mio palleggiatore quindi per esempio delle volte lo condiziona a fare cose che non è abituato a fare tipo giocare una palla una seconda linea una palla spostata eccetera eccetera e aspetto più interessante c'è un giocatore che poi deve giocare una palla che tutti sanno che andrà lui perché non ha la maglietta con muro piazzato e difesa piazzata per fare punto carino questo però mi viene a pensare che preferisco dare io le casacche a secondo di quello che voglio in larga sai penso alla mia squadra tutti tutti dando la casacca e tre punti a gabi no che quindi è già quella che attacca tutti i palloni e attaccherebbe ancora di più in quel momento lì quindi io invece darei di più volentieri devo allenare la palla per uno do la casacca a tre punti al mio posto che che devo attaccare per uno faccio male la la pipe do la casacca tre punti alla palla userai questo però è una bella idea questa mi piace no no questo l'autorizzo non per la cosa l'unica l'unica cosa che magari a gabi gli danno la non maglia perché loro pensano che è l'unica che può giocare la rigiocata con muro a due a tre la davano al mio centrale americano perché su free ball è l'unico giocatore che mette sempre la palla per terra e quindi comunque si creavano questi meccanismi e lei è dovuto comunque mettere la palla per terra di primo tempo con tre giocatori che saltavano a muro quindi è stato allenante però di sicuro come hai detto te giovanni e se io voglio allenare per esempio nell'ultimo mese abbiamo allenato la pipe e l'ho utilizzato tantissimo dove la pipe la casacca fast e pipe valeva due punti e il mio palleggiatore è stato costretto a giocare tanta fast e tanta pipe quindi assolutamente sì vedi che l'ho imparato anche oggi come quella come quella della prima palla del libro mi era piaciuta lo facciamo l'ho fatto a punti io bello libero l'ho fatto a punti quindi libero la prima palla al libero e se libero da la palla di là no come fosse un terzo tocco e la squadra del libro che dalla palla di là fa punto quindi fa punto col contrattacco dopo una palla libera tre punti se libero alza la palla alta due punti per comunque è una situazione difficile se libero dalla palla libera al suo alzatore quindi lui si tiene la palla libera è un punto e quello è molto piaciuto l'idea l'ho presa da coach fattori e giocatori è piaciuto perché poi il libro anche sa che di solito sempre quello che non può sempre di che che non ha mai non ha mai nessun potere no almeno decide lui le sorti della sua squadra quindi quello che l'ho fatto a punti è venuto benino carino quelle vediamo un po di esercizi di di giovanni po di nulla po di nulla che allena nulla di nulla che guarda nulla è una premessa che devi la stagione non me la ricordo ma parli a perché i raccomoli per me da spedirti questi e poi li uso ogni tanto così cali di uso su tor c'è che si dice or che qua siamo a tre quattro anni quattro cinque anni fa gli avevo secondo allenatore è un brasiliano molto molto bravo si chiama mauricio che è tuttora nelle squadre nazionali ha lavorato con zeroberto ha lavorato con ben ardenio ha lavorato un po con tutti alle allena anche un club cioè e me lo consigliava perché sai che io mi piace sempre avere secondo il nato che mi porta una cosa nuova e quindi davo lui questi venti minuti iniziali quindi fatto riscaldamento due minuti e proprio due minuti a coppie perché non c'è il muro giusto per scaldare il braccio e poi ci riscaldavamo con questa tecnica quella che io chiamo tecnica in gioco no quindi giocatori che tutti dovevano difendere dove capitava perché vedi che dopo ogni attacco girano e tutti che devono fare una pipe una palla in due dove non fare una difesa in parallela o una difesa in diagonale spostarsi nel campo e da essere bravi a maneggiare questa palla no torsione interna torsione interna o come diciamo noi al wakibank all'una o alle 11 no questo è uno di quegli esercizi che vengono definiti in america cooperative giusto cioè non giochi per far punto giochi per dare qui qui la palla deve stare la palla deve stare in gioco e alleni la tecnica cioè la tecnica dipende così teniamo per tecnica alleni il colpo sulla palla c'è l'abilità di riuscire a gestire la palla sempre vicino alla riga quindi e 6 1 6 5 poi il diavonale stretto parallela e tutti devono vedete questo qua è libero che ha difeso diavonale stretta e attacca e attacca anche lui una palla lì no che che ha un po di motor learning anche se a françois gli fa in caccia ci lo so però ha un po di motor learning perché quando no si dice che bisogna comunque variare il più possibile randomizzare il più possibile anche no fare le stesse cose tutte le volte no non è allenante quindi anche se l'alzatore deve deve alzare una palla normale una palla con un piede una palla con due qui praticamente che che un po no io ho provato a imparare tanto dei brasiliani quello che i brasiliani dicono no che un giocatore un libero no che sa difendere una palla un centrale che sa difendere una palla in due che sa che s'altare una palla da ogni parte del campo che saltare che s'attaccare una palata è un centrale che sa giocare meglio a pallavolo che sa stare meglio in campo che farà meglio un appoggio che farà meglio un'altata e loro utilizzano questi noi li chiamavano chiamato con seppola varini e beltrani a chi eri il giro in giro no questo giro in questo giro in giro no che poi ce ne sono di mille versioni ho sempre pensato che allenasse un po questa amicizia con la palla e questa abilità di giocare a pallavolo poi probabilmente françois mi dirà che non è assolutamente così e quindi sono qui per imparare ti avrei detto un anno fa che non mi piaceva molto invece sono due cose molto interessanti la prima secondo me è molto più interessante questo lavoro per la qualità del primo tocco i tuoi giocatori in questo esercizio se vedevi erano straordinari nella qualità del primo tocco che secondo me è la cosa più difficile è rendere un attacco medio in una palla facile e lì si vede la differenza tra le squadre buone quelle meno buone in tutti i campionati e questo aspetto secondo me è l'aspetto che vale di più il secondo aspetto in realtà e inizio a darti ragione sul fatto che è tutto quello che ci viene detto appunto dal l'ecologico il moto learning fare cose diverse aiuta è la famosa ripetizione senza ripetizione quindi per esempio ho iniziato a mettere ogni tanto il libero in posto 1 il libero in posto 6 che può sarà quello che farà la nazionale italiana ma anche a volte mette il paleggiatore in difesa in posto 1 il fatto di trovarsi a leggere situazioni diverse in posto diverso aumenta le abilità quando tornano a fare il loro lavoro e quindi in questo caso questo cambiare il centrale che attacca la palla alta i liberi che attaccano la pa il centrale che difende una volta in una volta in sei una volta in cinque in realtà adesso con una giustificazione scientifica diventa interessante quando invece fino a un anno fa pensavo che fosse solamente un giro in giro e in realtà e adesso c'è una motivazione scientifica per cui è così importante farlo e forse anche perché i brasiliani hanno anche tanta qualità io faccio solo un'obiezione sempre sotto la lente di ingrandimento della formazione giovanile la scienza dice purtroppo che per allenare l'attacco forte non serve a niente allenare il colpo controllato cioè non è attraverso un colpo controllato che io possa allenare l'attacco forte per cui questo esercizio qua cooperativo che a me piacciono e li faccio spesso però metto soltanto questo warning non non utilizziamolo pensando che la mia giocatrice controllando il colpo diventi più brava ad attaccare la palla forte perché sono due cose che purtroppo non hanno non hanno correlazione giusto no secondo me in questo però loro imparano a capire che puoi con puoi attaccare la palla noi diciamo all'una puoi attaccare la palla alle 11 c'è questo che devono capire no queste poi dopo ci sarà momento che devono farlo tirando forte ma se lo faccio qui l'attore da un pallone in tre secondi che ecco che non è quello che vogliamo e poi quel importante del primo tocco dice a francois dopo non c'è più però dopo 52 minuti ciro si è uscito con l'obiezione più interessante della serata bravo ciro grazie nel vi sono guadagnato la pagnotta vediamo il secondo il secondo video è più o meno ma è tutto detto c'è un altro giro in giro dove siamo lì qui se non erro se non erro il libero è fisso e i centrali cominciano attaccare le loro palle no e c'è sempre vedi qui c'è laggiù che da uno si sposta in sei va a fare la pipe chi difende in uno fa la pipe e chi è in quattro prova a cercare angoli c'è qualche muro in più quindi è l'evoluzione no si partiva tutto un po più lento qui cominciamo già a veloci dare gioco per i centrali attaccano una loro palla oltretutto ti posso dire che questi reciti oltre che i miei alzatori ai miei alzatori piace molto perché praticamente scaldano tutti i palloni in situazione più reale perché devono non sono mai ferme come attacchiamo sono sempre lì che non succede sempre devono leggere e capire chi hai davanti anche scegliere perché una cosa chiedo loro no non sprecare una pipe con un centrale se ha il centrale che può fare la sette con la palla dai la sette non è la pipe centrale no quindi anche leggere un po chi hai e chi è in quel momento lì e a me e ai giocatori piacciono molto non dico che squadra che era questa qua ghost e giu ting milena rasi lo nico slot jansu nats orge aiccia non era una brutta squadra kelsey robinson che può che era panchina te pensate che squadra che è l'altra qua infatti l'impressione è che se decidono di attaccare forte l'esercizio dura due tocchi esatto però capito la cosa bella vedere fuori classe l'impegno e l'attenzione che ci mettevano e loro che sono prima ad arrabbiarsi se non erano in grado di mettere la palla dove chiedevamo loro di metterla quello è una cosa interessantissima su questo aspetto io ero fissato con la qualità del secondo tocco e quindi dal primo agosto tutte le stagioni lavoravo ore e ore sul secondo tocco e non sono mai riuscito a migliorare la qualità attraverso quei lavori quando sono riuscito molto più in fretta a farlo attraverso questi lavori quindi la cosa più interessante di questo esercizio qua è la qualità del secondo tocco che a delle volte passa attraverso il palleggiatore però come se a giovanni se passa attraverso il palleggiatore in situazione reale dove ha dovuto leggere una rincorsa una difesa eccetera eccetera ma soprattutto quando non sono loro a palleggiare in quel caso lì devono palleggiare una palla reale perché purtroppo io ore e ore dove l'allenatore attacca sul libro e qualcuno palleggia l'allenatore attacca sul palleggiatore e l'altro palleggia che va benissimo se è un riscaldamento dei primi cinque minuti però io ne facevo e non miglioravo mai perché in realtà era la cosa con meno transfer che esisteva questo lavoro qui fatto tutti i giorni è il transfer più importante e un'obiezione che mi fanno sempre c'è meno quantità ecco allora si pensa che con questa meno quantità produca meno qualità in realtà la qualità si produce con tre ripetizioni fatte bene piuttosto che 20 inutili andiamo con il terza clip questo lavoro che abbiamo provato poi perché poi il bello poi di 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 allenare no al nostro livello è che che poi possiamo provare no possiamo provare possiamo poi inventarci cose abbiamo tempo qui il lavoro è la mattina hanno fatto i pesi no fanno un po di salti dopo i pesi e via qui praticamente centrale deve leggere all'ultimo leggere il colore della palla che è quindi vedi la palla blu lei deve andare a destra e la palla due palle fa finta di centrale la palla verde lei va a sinistra e in più c'era anche la variabile che prima siamo partiti che la palla verde andare a sinistra la lancivano a sinistra mentre invece a volte la palla verde la lancivamo a destra quindi centrale doveva guardare diversamente non lo so sinceramente sinceramente non l'idea l'idea era quella di allenare lo spostamento veloce perché perché chiaramente vedi la vedi la cosa l'ultimo momento quindi l'ultimo momento devi partire andare veloce e allenare questo no occhio occhio e corpo che sono sempre collegati quindi a muro la cosa principale la cosa più importante del muro e comunque la qualità più importante del pallavolista a mio avviso è la lettura non sono le gambe non sono le braccia non è la testa non è il cuore la qualità di un pallavolista è la qualità di leggere e quindi questo è un modo di leggere poi con un po di pensamento no perché c'è anche un po ok blu di destra verde sinistra eccetera eccetera ditemi voi se era utile o no 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 molto ecologico e di sicuro è meglio di quello che facciamo tutti con due allenatori sui plinti il centrale che sa già dove andare si sposta e salta molto molto meglio di quello è molto ecologico però vorrei solo aprire una parentesi su una cosa che ha detto giovanni l'ha buttata lì la cosa più importante è leggere non è il cuore non è la grinta io e ciro ci abbiamo fatto una puntata su sta roba e si continua a pensare che la grinta l'attitudine la testa sia la cosa più importante purtroppo per fortuna la cosa più importante è la qualità è una qualità determinante in uno sport di situazione così complesso e la lettura è molto importante la grinta ma bastasse quella io avrei giocato quante olimpiadi eh esattamente esattamente quello che dico io alle mie giocatrici che sembra stasera grinta sarei campione olimpico vediamo l'ultimo se vogliamo uh questo non vi piace sicuramente ah ok allora questo mi scuso già in anticipo questo è un analito il classico analitico di difesa fatto nella maniera più reale più vicina al gioco possibile nel senso che il difensore non deve difendere l'allenatore ovvio il difensore ha sempre due minimo due scelte quindi che è il primo tempo o il secondo tempo quindi c'è la lettura c'è una decisione e c'è una parte tecnica perché io più quando faccio i corsi naturi comunque quello che cerco sempre di spiegare no che poi non so se questo è molto lorico o o da dove viene ok ridu e pericolo questa piramide ok che è che è quella no che che secondo me il giocatore deve fare che è leggere poi la seconda parte è il scegliere probabilmente non so se era chiusa non mi viene in mente no non è chiusa read plan and do read plan and do ok capito è due noi praticamente no se in questo esercito mettessi un allenatore solo e il difensore serve solamente il do no serve solamente il fare solo bomba bambam 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 allora visto che non vogliamo quello visto che in ogni recito che facciamo ci vogliono questi tre tre aspetti che è leggere decidere e fare ok e di conseguenza questo era la cosa più vicina in quel momento dove non volevo saltare non volevo fare le cose di gioco volevo fare una cosa un pochino più più statica no senza un grosso coinvolgimento no ho provato a fare questo ditemi voi che so che già che non vi piace tanto però apprezzato lo sforzo di rendere una difesa analitica più più vicina al gioco possibile ti sei un po già risposto ho preso tantissimo lo sforzo e prevengo due obiezioni perché tutti i allenatori diranno eh ma Giovanni c'ha venti persone di staff e quindi bla 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 eh sì è vero però due due considerazioni la prima ho visto tanta gente con venti persone di staff fare cose veramente eh inutili e lunghe file la seconda è bisogna essere in grado poi di utilizzare lo staff e quindi magari vedendo queste cose ci viene anche l'idea di come lo possiamo utilizzare e poi basta parcellizzare nel senso che se uno alla metà dei dei assistenti può lavorare su metà campo metà rete e poi farlo con gli altri giocatori è assolutamente apprezzabile lo sforzo di rendere il più vicino possibile eh un lavoro ripetitivo eh che fanno tutti la famosa difesa dai plinti pensando di migliorare in difesa eh mentre si migliora solamente il braccio dell'allenatore e in tutto questo una cosa che è molto interessante quel famoso triangolo che era la base del motor landing si sta si sta un po' trasformando nel senso che hanno iniziato a mettere tutte e tre le azioni nell'azione reading quindi nel momento che noi leggiamo l'azione già siamo in grado di agire perché in realtà nella lettura è eh incorporata la tecnica che andremo a utilizzare nel read si sa la scienza ci dice che ecco è compreso dentro il read anche il plan and do ed è il motivo per cui dobbiamo allenare molto più molto più l'istinto cioè il read perché è lì che c'è il il do e il plan mentre tutti noi abbiamo pensato che ci fosse un una lettura una scelta e poi un'azione purtroppo non c'è tempo per scegliere dobbiamo migliorare il read perché nel read c'è il plan bene François e Giovanni io prima di chiudere per par condicio vi propongo il mio esercizietto e sono pronto a essere criticato e corretto questo è un esercizio praticamente di riscaldamento dove praticamente il esercizio è pensato per i laterali i laterali devono dividersi in campo metà testa quindi un quadrante ciascuno e attaccare nel quadrante opposto per cui ad esempio questa giocatrice attacca da 5 riceve in 5 attacca da posto 2 adesso riceve la giocatrice nel quadrante di destra e attacca nel quadrante di sinistra non ci sono riferimenti su palla alta palla bassa e quando non c'è l'audio ma è l'attaccante che diciamo così chiama il palleggiatore gli chiede una palla che può essere una palla vicina una palla mezza una palla spinta una palla tesa nel frattempo dall'altra parte del campo ci sono liberi e centrali che cercano di giocare è molto random perché i due allenatori battono in maniera proprio randomizzata su un attaccante sull'altra mi piaceva molto l'idea che si creasse questo questa rincorsa che non è tradizionale non è standardizzata e mi piace che ci sia un adattamento alla situazione perché poi loro qua percorrono molta strada l'ho un po copiato un po dico la verità da francois e un po da un esercizio di davide e ne ho tratto questa questa situazione quando l'ho fatta alle ragazze piaceva molto però adesso è il mio turno potete non è quello che piace di più di questo esercizio che le obbliga se di fronte c'è un muro di gente che un po capisce no le obbliga a attaccare sempre opposto alla rincorsa quindi imparano delle tecniche molto importanti no ricevere dentro e essere in grado di attaccare fuori o ricevere e spostarsi fuori e attaccare dentro questo è molto molto bello per questo conoscendo i miei polli se lo se propongo una cosa così i miei centrali dopo due minuti quelli che quelle due che sono di la muro è una cosa una cosa un po inutile adesso un po inutile adesso se vedi è invertito quindi battuta semplificata sul libero ed è il centrale che deve fare la stessa cosa con il muro dei laterali per cui cambia quindi il centrale in in sette o comunque gioco avanti quando la palla nel quadrante di destra gioco dietro quando la palla nel quadrante di sinistra quindi ho da per par condicio anche qui entrambi ma mi piace perché imparano tanti colpi che che sono fuori dalla rincorsa quindi buono ma c'è una base scientifica importantissima io ci ho costruito la prima parte della della stagione nel senso che allenare eh l'attacco eh dobbiamo creare situazioni sempre diverse per quanto riguarda la rincorsa e il colpo d'attacco o la rincorsa e il colpo d'attacco quindi in questa situazione loro vanno a fare una rincorsa che non è naturale noi per esempio giocavamo spesso il cambio palla dove il giocatore di prima linea riceveva o in sei o in uno attaccava da quattro mentre quello di seconda linea riceveva in cinque attaccava da sei o da uno perché questa variazione viene riportata nel nel rid quando in zona quattro devono leggere situazioni e devono oltretutto come diceva giovanni c'è anche un discorso invece sul colpo sulla palla perché oltretutto si creano situazioni particolari che devono interpretare col colpo della palla e quindi chiaramente alla fine della della puntata Ciro voleva vincere quindi ha portato un esercizio molto intelligente eh detto ciò mi sono sono rimasto un po' male perché i tuoi attaccanti come diceva prima Giovanni hanno fatto punto al dispetto di miei che un esercizio è durato venti minuti nessuno faceva punto quindi questo vuol dire che i tuoi hanno più qualità di miei e quindi bravo Ciro il muro non era granché no è vero è vero il muro non era molto motivato il muro non era molto motivato quello si può lavorare assolutamente sì François siamo ai saluti conclusivi intanto ci siamo divertiti ci siamo divertiti un sacco abbiamo provato a portare un sacco di idee abbiamo commentato qualche esercizio che nessuno si offenda l'unica cosa che insomma eh passando il tempo libero su Instagram ho questa impressione che eh cerchiamo di inventarci tante cose quando già il nostro sport è così complesso quindi se è vero che less is more proviamo a togliere e a tornare come ecco gli esercizi che ci ha fatto vedere all'inizio Giovanni alla semplicità all'intero di un contesto di gioco e a me sorprende il coraggio a dire la verità con cui certi allenatori pubblicano i propri esercizi su Instagram e su TikTok impavidi senza nessun timore delle critiche quindi apprezzo il coraggio ecco assolutamente sì a volte non è coraggio a volte è incoscienza perché mi sono ritrovato l'altro giorno sul sito del Vakibank una parte di un esercizio che è venuto così male che non avete idea e l'hanno messo proprio l'hanno messo su proprio l'hanno messo su Instagram mi ha fatto vedere ragazzi ma c'è a me non chiedete prima di me quella quindi quindi non è coraggio quella è incoscienza che non lo sapevo io che l'avevo messo praticamente una cosa tipo no lettura di muro gli allenatori sul plinto gli allenatori ne aveva un grande esercizio ma era in un contesto molto particolare purtroppo Ciro il più il più delle volte è semplicemente arroganza perché purtroppo tutti pensano di aver inventato l'esercizio della vita e quindi vogliono far vedere quando sono bravi e quindi purtroppo delle volte più arroganza che che altro insomma www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori www.coachfactor.it